Ciao a tutti, sono Claudio Brassiolo, responsabile ambientale della Italgel SRL di Santa Vittoria d'Alba in provincia di Cuneo. Abbiamo un organico di oltre 100 dipendenti e al nostro interno abbiamo un impianto di trattamento delle acque reflue industriali. Come tutti gli impianti di depurazione anche noi abbiamo avuto il problema della gestione dei fanghi di depurazione con il formarsi di cattivi odori, con costi enormi per lo smaltimento e per la gestione e a Ecomondo del 2019 ho conosciuto l'officine di Cartigliano che hanno realizzato l'essiccatore dei fanghi per la riduzione dei costi di gestione. Abbiamo intrapreso una progettazione, abbiamo fatto delle prove e teste in Cartigliano con un macchinario industriale, siamo andati a visitare macchine installate da altre realtà e dopodiché abbiamo deciso anche noi di fare questo acquisto, abbiamo installato la macchina e da agosto del 2022 la macchina è in funzione ottenendo ottimi risultati, infatti siamo passati da un secco intorno al 30% all'uscita della fase di disidratazione fino ad un secco con oltre il 90% ed ecco qua il risultato. Ottimo lavoro, bravi tutti!